Ciao a tutti ragazzi! Come sembra io sono Viaggiosapuppo e andiamo su una collezione giurassica, è un gioco che si chiama Jurassic Soul Survival e adesso entriamo. Vedete ragazzi è quella, adesso ci entriamo. Vedete è questa, dobbiamo aspettare che si carichi. Ovviamente ci vuole tempo. Ora devo che è il mio nome? Viaggiosapuppo. Ok. Vabbiamo sul foglio. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti